per poter far vedere all'azienda il tuo curriculum grazie, comunque vi volevo fare i complimenti perché è stato un corso veramente brillante interessantissimo e le insegnanti sono state favolose ho imparato tantissimo sì, grazie ma tu da che livello partivi? io da zero proprio dal nulla quindi sono stata contenta perché ho imparato tanto, tanto, tanto e cosa ti aspettavi prima del corso? che aspettative avevi prima di iniziare? non pensavo che fossero così le insegnanti fossero così disponibili cioè io qualsiasi cosa non capivo chiedevo, loro mi spiegavano poi mi hanno aiutato a preparare il curriculum cioè sono state proprio brave, brave, brave comunque su Word, Excel e PowerPoint io li usavo in maniera proprio elementare ok, adesso so fare praticamente quasi tutto e li ringrazio tantissimo veramente grazie a tutti Grazie a tutti.